salve tutti i video del 2024 devono iniziare con me che esco dal balcone chiaramente buongiorno siamo a Prato Nevoso furgoncino e guardate cosa c'è dentro sciettini e bicicletta proprio perché oggi è una giornata molto particolare siccome qui a Prato Nevoso c'è l'evento bike to hell gara downhill sulle piste da sci vi dice già qualcosina chiaramente non potevo non portarmi anche gli sci e farmi una sciatina alla mattina però c'è una particolarità perché sto filmando con la nuova Insta 3 Santa Ace Pro sensore maggiorato, obiettivo laica, schermino flippabile e zoom diretto sulla camera che cosa vuol dire tutto ciò? non lo so ragazzi perché non l'ho ancora provata però Insta 3 Santa me l'ha concessa per questa giornata ho visto tante recensioni online e tante persone l'hanno elogiata quindi la proviamo dopo una bella colazioncina ragazzi siamo sulle piste tra l'altro vorrei far vedere l'outfit estivo raga ci sono tipo 14 gradi a sciare a Prato tra l'altro qui è Snow Park raga che mi han detto in tanti che è veramente figo comunque come funziona un po' la giornata di oggi questo bike to hell è sostanzialmente una maxi avalanche però qui a Prato Nevoso si scende la montagna a cannone dalle piste da sci con la bici ADH però volevo approfittarne per provare la Insta 3 Santa anche sugli sci tra l'altro vorrei far vedere una chicca subito questo orologio che assomiglia tantissimo all'Apple Watch veramente comodo tipo per setupare la camera l'ho messa in testa e guardando dallo schermino l'ho puntata giusta ed è veramente comodo anche perché da qui potete cambiare qualsiasi cosa allora ho beccato due fani di snowboard tra l'altro stanno facendo la gara di slop sai giusto? com'è andata? bene bene di tutta la linea fate tutti quelli a destra? si va bene lungo? no io sono corto non lungo ciao Toto intanto che aspettiamo due ragazzi che mi devono tirare per fare anche il terzo salto dello snow park sensore da 1 fratto 1,3 pollice termine tecnico che non so cosa vuol dire ma quel sensore più grosso significa che entrano più dati e di conseguenza la qualità può essere più alta io adesso lo sto usando appunto in action e sto filmando tutto in 4k a 60 frame al secondo che è l'impostazione che tengo sempre ma tra le funzioni innovative di questa camera c'è appunto il fatto che lei filma benissimo di notte nel momento in cui veramente entrate nel bosco e di solito le action cam hanno molta fatica proprio perché col buio la stabilizzazione va tutto un po' insieme nell'immagine invece lei rimane tutto nitido e definito tra l'altro schermino flippabile vi potete veramente inquadrare ma la cosa bella è appunto che rimane molto compatto poi chiaramente gli attacchi che hanno fatto finalmente degli attacchi veramente intelligenti la telecamera tra l'altro con questo supporto si può mettere sia orizzontale che verticale come dice Yakidale spero veramente che Insta360 continui con questa tipologia di attacchi per tutte le telecamere sarebbe bello avere un attacco universale chiaramente trovate in descrizione il link mi raccomando utilizzate sempre il link in descrizione perché mi supportate però prima di acquistarle vi consiglio finite di guardare il video perché veramente mi hanno parlato molto bene di lei di sera sotto la fai la gara stasera si in bici sarà un disastro secondo me con i canali che si formeranno in pista sarà nazissimo apro io quindi ti seguo io secondo me ti dico prima il ragazzo mi ha fatto fare il primo dal primo al secondo dritto il terzo non me l'ha fatto fare ma secondo me dritto secondo me dritto raga abbiamo preso una flettata della vita sul terzo ok la neve molle andiamo dritti tra l'altro avete visto però niente la telecamera è andata in giù stringete sempre bene gli attacchi della camera ha beccato anche il buon gabri pala che va in bm ciao ragazzi l'avete visto sicuramente nel video di varazze però anche lui è molto gasato con gli sci questo dal primo al secondo dritto l'ultimo non dritto session in sci finita anche se avrei voluto continuare perché raga lo snow park fa paura qua è proprio bello per chi deve imparare per darvi due numeri ho appena cambiato una batteria e ho filmato più o meno un'ora di girato che è veramente tanto comunque non so se avete notato una cosa di solito in macchina è particolarissima con le action cam o è esposto nella maniera corretta la mia faccia e fuori è bianco oppure il contrario cioè fuori ci sono i colori ma dentro io sono buio invece grazie all'hdr della ace pro io sono perfetto e anche il fuori è perfetto mi fa capire a che livello di tecnologia sta arrivando in sta 360 i gradi che ci sono fuori 20 gradi raga comunque funzioni più apprezzate fino adesso chiaramente l'orologino far partire la ripresa da qua è veramente figo e soprattutto lo schermino flippabile della telecamera lo sto usando un botto è quasi giunto il momento della gara in bici stavo cercando un modo di personalizzare le scarpe per non avere freddo sacchetto alla spazzatura imbottire e poi tu ci infili il piede così il sacchettino fa un po' da isolante e in teoria ti preserva un po' da sicuramente bagnarti e un pochino dal freddo faccio la figura del principe bella ciao bella bella ciao voi che l'avete già fatto? sarà molto freddo grazie allora noi stiamo salendo e qui raga avviene la magia di Insta360 perché dalla modalità normale video noi scorrete in pure video che è in realtà la modalità che hanno creato apposta per la notte praticamente il filmato ve lo sistema completamente e l'effetto che vi da sulle luci è veramente naturalissimo eccolo grazie dai fammi provare questa cosa che voglio provarla andiamo via subito sono caduto è impossibile andare fuori ma che cazzo fai a star su? almeno si scivola ma che cazzo fai a star su? no no con i canali pensavo che moli tutti i freni stai tutto indietro li tagli col cavolo tipo la linea che ho fatto io adesso non è giusta perché in fondo sono andato lentissimo alla vicina e non andava avanti che ho visto due ragazzi che andavano molto più forte di me e io non toccavo i freni e poi è culo sei riuscito a stare in piedi sperare che nessuno ti ammazzi ti venga addosso e via molto divertente come esperienza per rassicurarti sono caduto quattro volte ma una è subito si eri tu eri si si sono caduto subito lì adesso mi godrò la vostra partenza attenzione vai bravo vai ma guarda che sto già morendo numero 97 99 100 siamo in seconda fila è dura la seconda fila eh vabbè ci divertiremo così ma si 10 secondi alla partenza pronto 3 2 1 vai 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 è tutto ma cazzo sono fermo vai 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 donna raga che roba nazi no 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 minchia che che nazzata momento della verità vediamo se sia stati già eliminati alla prima batteria dicolo segreto col 94 con 100 torquato testa abbiamo passato la batteria già ho un quadrato di più rispetto a prima davanti andavano molto più forte di me non toccavo un cavolo di freni eppure mi andavano via tutto nel partiglino di partenza non sono già pronto qual è la mia bici? eccola là 3 2 1 no 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 oh oh crow hey yo what the fuck no ooooh l'errore da non fare è stato compiuto Non lo recupero oramai Minchia 3 metri nella partenza 2 nella schiena Però poi dovrei aver recuperato un po' 2, 6, 5 100 No, sono passato Incredibile È stato 3 metri dalla partenza Madonna, questa qui comunque era la run vita o morte l'ultima Sei di nuovo passato Sono passato di culo Allora ragazzi, sono rientrato ancora negli ultimi 10 Adesso c'è la finale in 20 L'unione di tutti i finalisti delle batterie Tra l'altro lui è uno di quelli che mi è venuto nella schiena subito in partenza È andato in finale quindi è di portare la fortuna Allora, incredibile Ma sono qua 10 secondi NON Shots fired! Shots fired! No! Ho sbagliato alla fine! No! Sono finito! Ho buttato via tutto! Ero primo per un momento! Raga ho rischiato di vincere! Non ci credo! Ho rischiato di vincere raga! Incredibile questa cosa! Ultima manche! Ero primo! Era la finalissima! Non sono stato rigido in quel pezzo che spianava! Mi si è chiuso un po' ho rallentato tantissimo e poi il problema è che lì non c'è più pendenza e quindi lì dietro che arrivavano con lo slancio mi ha superato! Non so quanto sono arrivato! Forse nei primi dieci! Però queste gare sono così! Sono goliardi che sono fatte apposta! Questa giornata mega di sci più bici raga si conclude qua! Io spero che abbiate veramente apprezzato soprattutto la qualità di questa Insta 3 Santa Ace Pro perché di notte veramente fa la differenza! Vi ricordo che in descrizione trovate il link per vederla o acquistarla! La be è felicissima perché nel pacco gara ha ricevuto una marea di biscottini! Domani raga vado a provare la snow bike e lo snow scoop! Quindi aspettatevi un altro video sulla neve per quest'anno! Bella! Ciao! 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 Ciao!